Ciao a tutti, ciao a tutti, mi chiamo Royston Vinson, siamo qui oggi, sono qui con la mia amica Chiara, non ti spiegherò chi è tra poco, ma siamo qui per questo libro, questo è il mio primo romanzo che è uscito nel novembre 21, ma siamo qui perché è appena uscito per Kindle. Eccoci qua, per Kindle. Io ricordo sempre quella prima volta quando, parliamo di anni, anni fa, 2018, ok, grazie, 2018 quando ti ho mandato una mail con questa bozza quasi allegata, ti ho detto, Chiara, io credo che sia qualcosa di coinvolgente, che ne pensi tu? Tu mi hai detto? Io ti ho detto sì, qua c'è qualcosa. Mi sembrava chiaro che dalle prime righe, dai primi capitoli ci fosse un messaggio, ci fosse una storia interessante, ci fosse già il materiale per un libro. Mi sembrava che fosse già tutto lì, andava limato, andava scritto leggermente in maniera diversa forse, sì, magari approfondito, però le basi erano già tutte lì. Anche se l'ho scritto per la maggior parte del tempo in italiano, c'erano pezzi d'inglese, no? Qua e là. A me hai tratto di trasferire in italiano in un modo comprensibile. Eh sì, il libro ha un po' la voce anche del trovare quella storia con le parole in italiano, cercarle, pesarle, è diverso, seppure si sente la mente inglese, è una mente inglese che sta andando a fare quasi degli scavi nella lingua italiana. Sì, è molto bello questo, mi è molto piaciuto come viaggio del libro attraverso anche la lingua, qualcosa che daremmo per scontato forse in un altro libro, ma non è questo. 27 bozze. Wow. A volte uno scrittore, un compositore non vede quello che ha fatto, quello che ha scritto, quello che ha creato, serve qualcuno che invece lo legga o lo ascolti per dire sì, qua c'è qualcosa, sì, mi sta arrivando un messaggio. Sara, nelle canzoni, nella storia di questa giovane protagonista, il messaggio c'è, arriva. Forse anche devo complementarmi con la mia casa editrice, edizione Progetto Cultura, perché non mi hanno detto, ok, dobbiamo cambiare questo gusto un po' esotico a volte, esattamente questo inglese, questo italiano con un impronto inglese. Ma forse è una cosa sorprendente per un libro d'esodio, è che io avevo utilizzato questa voce femminile. Abbiamo capito, no, che questa lingua mi ha dato questa possibilità di trovare quel lato di me stesso, che in inglese non avevo potuto trovare, esprimere. Io avevo pensato che la voce fosse autentica, reale, ma ovviamente volevo avere la tua conferma in questo senso. Ed è stata poi questa voce arrivata completamente, la voce di Sara. Devo dire, perché è chiaro, tu sei un, ovviamente, sei una lettrice da giovane età, quindi dietro le tue spalle c'è tanta letteratura. E' utile per una prima lettrice o prima lettura di avere un retroscena abbastanza profondo, no? E' profondo nella letteratura. E' stato banale dirlo, ma forse anche un amore per leggere. Sì. Una curiosità per sperimentare vite che non sono le nostre. Sì, ma una cosa che viene in mente è che pensavo, perché sto collaborando con te, Chiara, sui prossimi progetti, pensavo oggi, proprio oggi, mentre scrivevo questo racconto, che sapendo che tu sei, posso, come avevo fatto sicuramente con le canzoni, posso eccedere i limiti, forse, posso esagerare a volte, sapendo che ci sarà questo confine di Chiara, che mi dirà, ok, forse è troppo lì o puoi andare più in là e così via. Hai questa sensazione quando leggi delle cose? È una grande, è un grande, è un grande onore ed una grande responsabilità. Non sono sicura di avere la bussola di questo limite, anzi non ce l'ho, però è la possibilità di far leggere a qualcun altro, secondo me è proprio il limite di un'altra mente, che avrà limiti diversi dalla propria. Sì, senza gli spoiler, Chiara, trattiamo con Sara, lei è orfana, londinese, cresciuta a Londra. All'inizio un talento è individuato da uno dei beranti che insegna il pianoforte, e da lì seguiamo le sue vicende da adolescente in poi. Si laurea in musica, seguiamo la sua vita in musica in vari campi del mondo dell'insegnamento, del mondo della musica dal vivo, con i gruppi. A proposito dell'identità di Sara, è uno di quei personaggi che proprio perché è orfana, è un po' come se tutta la sua vita adulta dovesse essere provata, come se lei entrasse in un negozio e iniziasse a provare tutto, qualsiasi cosa, un po' per dirsi cosa voglio, cosa mi sta bene. È molto avvincente, perché Sara non è una a cui si può dire cosa fare. È una che deve arrivarci da sola. Questa è una delle caratteristiche più belle di Sara. L'ho sempre trovata molto vera. So, al di là del fatto che, Chiara, tu sei una prima lettrice, un editor, un consigliatrice, sei anche la voce narrante dei video pubblicitari che avevo creato per canzoni che non suonano ormai a radio, che vorrei, ci sono i link, quindi quando lo vedete, questo video, è la voce di Chiara che rappresenta Sara. Ti ringrazio anche per quella voce, Chiara. Molto bello, grazie a te. Dunque, volevo semplicemente festeggiare questo avvenimento. Pensiamo per un attimo delle cose forse banali, ma importanti, a un prezzo molto abbudabile, cioè più o meno cinque stoline, cinque euro. Ma dunque, innanzitutto, Chiara, grazie a te. Grazie a te, Raitton. Bellissima avventura. Grazie.